buongiorno sono angelo gerosa e rappresento il gruppo gerosa una piccola multinazionale a carattere familiare che opera nel campo del packaging flessibile il gruppo gerosa copre una gamma molto ampia di differenti applicazioni di imballaggio dai materiali singoli a laminati multistrato includendo singoli film singoli e laminati con applicazioni di colsil laminati carta alluminio e cartone alluminio e alcuni mercati di nicchia come ad esempio dei laminati di film con strisce di alluminio per il confezionamento di praline di cioccolato taglio laser per applicazioni easy open e molte altre soluzioni di packaging ma abbiamo visto che il settore dei paucis stand up cioè dei cosiddetti toy pack sono un mercato in grandissima crescita un po in tutti i continenti e stiamo molto investendo in questo settore un altro settore interessante evoluzione interessante del mercato che abbiamo visto in paesi e in via di sviluppo soprattutto in africa è una ricerca di materiali biodegradabili anche per ovviare al problema dei rifiuti lasciati sul terreno come negli anni passati il mondo del packaging ha sempre seguito l'evoluzione della domanda del cliente del consumatore per esempio nell'europa occidentale che è un mercato dove la popolazione sta di giorno in giorno sempre più invecchiando dove le famiglie composte da una sola persona sono sempre più numerose il packaging si orienterà verso sempre di più monoporzioni molto più piatti pronti che richiedono dei packaging specifici molte soluzioni facili da aprire e facili da manipolare proprio per aiutare le persone anziane e infine c'è una grande domanda di imballaggi più vicini all'ambiente prima di tutto sono molto orgoglioso di annunciare che durante l'inter pac noi riceveremo nel nostro stand il premio di eccellenza da parte di Certi Quality per aver conseguito diverse certificazioni in particolare la ISO 9000, la ISO 14000 e lo HSAS 18000 cioè le certificazioni di qualità ambiente e sicurezza e salute sul lavoro oltre a certificazione ISO 22000 quindi di igiene che la Gerosa possiedeva già. Questo significa che Gerosa ha molto cura non solo della qualità dei suoi prodotti ma anche dell'ambiente e della salute di tutte le persone che lavorano nelle nostre aziende. Riguardo i prodotti che presenteremo ad Interpac come indicato prima abbiamo dedicato particolarmente queste edizioni alla presentazione di DOIPAC quindi di confezioni stand up con diverse soluzioni di imballaggio e comunque la nostra clientela potrà trovare anche molte altre proposte innovative.